Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Applegate in Requiem, qui con Ranagamer83. Oggi riprendiamo dal capitolo 8. Il problema è che i riassuntini che adesso noi possiamo leggere con calma, e poi schiacciando conferma, riuscendo finalmente a leggerli tutti, non coincidono più con quello che stavamo facendo. Perché ad esempio qua dice, alla fine che salpiamo insieme a Sofia, mentre imperversa una tempesta, eccetera. Ma noi siamo ben oltre, siamo arrivati sull'isola, Arnaudo ci ha tradito. E adesso, schiacciando conferma, vedremo dove siamo. Siamo arrivati qua, stiamo fuggendo dai soldati, quindi è vero che adesso il riassuntino è bello comodo da leggere, ma non coincide più, porca paletta. Ci fanno il riassuntino a metà. Sacramento, Sacramento, dove siamo? Allora, aspetta, lì c'è un altro baule. Sarà un altro puntato sessione baule, spero di no. C'è un baule, come ci arriviamo? Magari dall'altra parte. Sì, mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte. Vediamo. Eh, sì, sì. Dobbiamo salire su con qualcosa. Y. Ma che minchia facciamo, però? Ah, 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 lì c'è qualcosa che si illumina, ragazzi. Potrebbe esserci qualcosa che magari ci serve. una scala che io non vedo. Mucche che ci possono salire sopra le mucche. No. Ah, eccolo qua il buchino. LB. Vai, piccolo Ugo, renditi utile. Sto se che sei utile come un culo senza un buco. Oh, là. Eh, voilà. Aspetta che c'è... Oh, aspetta, aspetta. C'è qualcosa lì. Ossessione Bauli, parte seconda, ragazzi. Ok. Andiamo. Questa dobbiamo ancora capirlo. Mi avrà ucciso qualcuno. Ok. Oh, apriamo il bauletto. Bella roba, spero. Vediamo. Oh, ci può servire. Speriamo di aver... Qua? Ci vedono? Eh, per faremo. Cerchiamo di seguirli. Oh, cazzo. No, no! Vite! Pessi torno! Si può essere solo! Ma il mio oiseo vuole tre uomini! Voi è morto! Il è presto per tuare. Tu puoi l'arrattare? Il è troppo rapido. Il mora avanti che io vise. Dove ritornare l'attention del volo. Non cazzo. Non cazzo facciamo a distrarre il falcone, zio. Guarda tu. Oh, madonna, ragazzi. Oh, madonna, ragazzi. Aspetta, allora. Facciamo... Usiamo la mano? Dove cazzo facciamo? No. 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 Ma dove cazzo? Andiamo? Però al riparo dove? Eh, però al riparo dove cazzo andiamo? Lì è tutto chiuso. Proviamo. Ci vengo! Allì, va! Ah, no! È cruenta la cosa, ragazzi. I tuoi strumenti per distrarlo. Allora, vediamo un po'. Quello è l'unico posto dove può andare. Ok. Dove possiamo andare, però? Dura poco sta cosa. Ah, no! Però lì non siamo al riparo. Dobbiamo cercare di capire dove possiamo ripararci da sto stronzo. Come attacca? Noi. Noi. Noi! Noi. 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 Ah, no. Ok. Un vasetto. Eh, ho il batticuore, ragazzi. Dove possiamo andare? Di là non ci arriviamo. Lì non siamo più al coperto. Possiamo andare di là. Vediamo. Uh, signore. Ok. Ok, qua non c'è niente per nascondersi. Non bisogna fare quello. Ok. E ma dove cazzo? Questa l'ora dobbiamo andare, però. Là. Perfoggia. Non c'è nient'altro, ragazzi. Aspetta, vediamo un po'. Ehm, accendiamo. Aspetta. Eh, però così ti vedo, ragazzi. C'è niente da fare. E poi, là. E poi che cazzo facciamo? Uh, signore. Questa cosa è veramente pescifera. Allora, allora. Sono un po'... Ah, vai affanculo. Sbagliato. Oh, non la. Eh, e poi? E poi c'è un alchiulo. Ok. Aquilaccio di merda. Madonna, ragazzi. Madonna. E che è sta cosa dell'accellaccio? Ah, no, aspetta. Dov'è qua? Le abilità. Extinguish. Ok. Niente. Creazione. Vabbè. Miglioramenti. Possiamo migliorare qualcosa? Tipo la pionda? Trovo un banco di lavoro. Vaffanculo. No. No, abbiamo trovato più nulla, ok. Madonna, ragazzi. Ho il batticuore per colpa di... Qui non si può entrare. Ah, basti, Anic. Qua neanche. Ok, va bene. Eh, ammazziamo il conte. Che ne so? Ebbè. Ebbè. Meno male che le donne non ce l'hanno con noi. Ah 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 ah. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Je tuerai ta catin contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'ordre des chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, monseigneur. Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous? Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous. Plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Vous accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? Vous êtes sûre, enfin... Oui, Emilia a raison. Vous l'avez bien mérité. Je ne me fiderai neanche de leur. Vediamo se possiamo fidarci di questa gente. Comunque dobbiamo liberar, no? Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon? C'est vraiment votre maison? Oui, et tu es chez toi. C'est incroyable. Venez, entrez-vous. Beh, mais aussi vous avez une belle maison. Eravate riches-fondés. Wow, c'est grand! N'est-ce pas? Et ce n'est qu'une petite partie du palais. Oh, voulez-vous quelques dates avant de rejoindre votre chambre? Des dates? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo, s'il te plaît. Oui. Tout cela peut paraître solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de la Kuna ne fait plus qu'un. Unis autour de l'enfant des Gose. J'adore! Ah, un bon vivant! Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous? De Guyane. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons. Ici. Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable. Je sais. J'ai hâte devant notre chambre. Agnès, préparez une chambre pour deux, je vous prie. Tout de suite, mère. C'est sa maman? Non. C'est symbolique. Et voici nos jardins. Mon endroit préféré. Splendide. Oh, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui. Ne sont-ils pas jolis? Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Où sont vos parents? Périple. Maman a eu quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Euh, Hugo. Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Mais je qu'est-ce qu'elles sont comme nous, tu sais. On boit de l'eau? Devo ascoltare cosa dice sa betaine. Et nous avons besoin de bonne terre, d'amour et d'attention. Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera. N'est-ce pas, Amicia? Merci infiniment. Sì, però, dai. Les mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor? Bien sûr, ma chérie. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. Nous avons fait un nom, Amicia, ça se lit dans. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer. Dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous, sa mère et son père. Au bon peuple, nous le prions. Non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons, nous le vénérons, pour raviver sa flamme. Vediamo sta setta, cosa adora. Preghiamo l'uccello. La flamme, pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever, un soleil, un fils si radieux. Si radieux. Si radieux. Merci. Ça me touche. Pouvons-nous continuer? Euh, pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et... Prier pour notre père? Hugo? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Cher papa. Hugo, c'est vraiment ton oiseau. Regarde-le attentivement. Ah, oui. Je le sens. Son bec est pareil et... Je le sais, c'est tout. Bien. Très bien. Retournons-les voir. Et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord? C'est notre secret. Je sais. Non possiamo correre. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui. Les nouvelles robes sont splendides. Ce sera... Parfait. Excusez-moi. Oh. Etes-vous prêt? Oui. Ma foire, nous sommes heureux que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant portant lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Nous y sommes. Je suis un peu perplessa, ragazzi. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, amicia. Chut. Oh. Il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud? Hugo. Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais... Tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer l'Hakuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gente dame. L'hélices sont robustes. Allez, sautez dessus. Oui. Ok. Non l'ho capito, l'ho racconti e rivelazioni. Et voilà. Vediamo che... Che racconti e rivelazioni. Non l'hai sfregiata, poveraccia. Allons, on sait juste le soleil. Regarde. C'est magnifique. Wow. C'est... 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 C'est un rêve. Oui. On se croirait dans mon rêve. Allez. On mange un morceau et on y va. Tu viens? Non. Le avvelenano. Wow. Comme c'est beau ici. Amicia, on va jouer. Hugo. On est censé découvrir pourquoi tu arrives à cette île. Non? Si. Allons-y. Non dobbiamo mangiare. L'abbiamo già mangiato, quindi? Vabbè, abbiamo già mangiato. Esplora l'isola, ho finalmente un minimo di open world. Girovaghiamo, come le merda nei tubi. Vedere cosa c'è di qua. No, non si può fare un cazzo. Bisogna andare dritto per dritto. Lì cosa c'è? Guarda questo. È così grande! Ti conto, d'accordo? Se tu vuoi qualsiasi. Sì, io resto all'affreddato! All'affreddato. Siamo di restare all'affreddato. È meno buono. È... Sì, è meno buono. Questo è veramente qualcosa. Questo qua cosa sta facendo. Cosa sta facendo quest'uomo? Vediamo cosa fa questo. Voilà. Ah, e poi sale le scale. Ok. Va bene. Quindi di qua non possiamo andare. Possiamo solo scendere. Quello lì non è più sceso. Basta, se n'è andato su. Con cancello, ma è chiuso. Sì. Dobbiamo seguire la strada, niente. È altro che un perworld, è un cazzo. Ah, che c'è chi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie. Grazie. Grazie cosa? E va fare tre show oggi. E come? Non mi nemmeno non devo portare questo casco. Eh beh, le cose sono state complicate hiero al porto. È la scuola? Sì, non mi nemmeno. Demandiamo la scuola. Sì, non mi nemmeno. Buongiorno? Sofia, buongiorno. Contente di te vedere. Come ti senti? Où ti senti? C'è l'histoire di mia vita, trésor. Se levare tanti, fouillare l'oreille, e tirare parti. Ciò mi permette di trovare la trace di Arno in prison. Sì. Ce fumier. Il ci ha trahi. E pire, il ci ha servito di go. Buongiorno. 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 di mare dai che solo di farci strada bene ma sopì ah è questo qua l'occello segui l'estato degli uccelli che culo di qua cosa c'è però? ah là c'è una statua questo guarda di là dove cazzo era? guarda di là ma veramente io qua adesso sto cazzeggiando sto cazzeggiando mi piace vedere Sofì che bestemmia dietro di noi sarà di qua? no mi sa che non è di qua ah sì sì là c'è una è l'acqua E' nascosta dietro la collina, vediamo. E qua c'è l'altra. E non si può scendere di qua, brutti bastardi. Che stronzi però, scusami, io non posso saltare da quella roccia adesso. Ah beh. Ma scusi, io non posso andare su di qua a vedere. Perché devo seguire gli uccelli adesso? Ah, che c'è qui. Ma l'or, non sento buono. D'accordo, ti ho vinto. Sì, molto grazie. Ah bene, si può entrare. Di qua. Questo si può raccogliere? Questo fiorellino? No. Non, 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 non. E cosa dobbiamo fare qua però? Questo è il primo mulino. E l'ho fermato. Perché sto fermando i mulini? Non lo so. Chiuso anche questo. Possiamo salire su da qualche parte? Ah, ok. Vai, Ugo. Dai, Ugo. Che sta facendo? Alleluia. Quanto è lento sto bambino. Guarda, guarda, guarda che intruglio. Ma perché deve salire anche lui? Anche lei. Tutti, tutti devono salire. Io non so perché lo sto facendo. Però mi sembrava carino. Fermare tutti i mulini. Se ce lo fanno fare vuol dire che possiamo farlo. Passare qua sotto. Non ho idea di cosa io stia facendo. Comunque. Allora, ok. Ma non so cosa sto facendo. Ti levi un po' dal cazzo, biondino. Ah, è questo. Ma tua mammina. Sanca. Ok. Niente, tutti e tre all'ambraggio proprio, è così. Atterriamoci di nuovo. E adesso entriamo nell'ultimo mulino. Senza fare stealth che non serve un cazzo. E questo però lo fa partire. Cioè, io due li ho spenti e uno, vabbè, non so cosa ho fatto. Quando mi danno libero arbitrio in questo gioco, sono un po' per i cazzi miei proprio. Non si può passare. Cosa c'è qui? Non c'è modo. Non ci fanno passare di qua, non ci fanno passare di là. Così, cazzeggiamo allegramente. Sì, no, non c'è modo qui di passare. Qua è tutto recintato. Qua tanto ormai siamo entrati in tutti i tre mulini. Non so a cosa è servito, ma l'abbiamo fatto molto bene. Come si dice, non sto facendo niente, ma lo sto facendo molto bene. Mi sono anche persa, non mi ricordo più cosa sto facendo. Ah, sì, seguivo l'estate. Qua non c'è il muro, però. Battardo. Qua c'è gente che sta sparando gli aquiloni, ok. Aspetta. Raccogliamo un po' di roba. Ok. E non so a cosa serva. Tutto questo. Hmm. Ah, qua Perché dobbiamo arrampicarci su un tetto? Ah, ok Quinta tu si possano si iscrida adesso ragazzi Come non si può ancora aprire? Bastardi Non ho chiuso tutto allora Non ho aperto tutto Stardi Poi sempre questo bambino, non possiamo lasciarlo qua un attimo Possiamo dirgli stai fermo, no Tipo, no Non c'è modo, volevo di lasciarlo qui e farlo da soli, no Allora romperci il cazzo tutti e tre Va bene Oh, jesus 20.000 Allora qua l'abbiamo fatto Ok Adesso Va bene Dobbiamo scendere Meno male che si scende senza schiacciare asena Già mi sarei Pirlulata Ah, ne manca uno C'è anche quello Non l'avevo vista Ok Scendiamo di qua Vado C'è l'altro cazzo Siamo dall'altra parte Così vediamo l'altro pezzo Ah, qua cosa c'è? Una freccina Ci può servire Ottimo Che culo Su ma sì Oh, c'è anche il tavolo da lavoro Grazie a Dio Lì potenziamo qualcosa Finalmente Potenziamo Allora Cosa facciamo? La fionda? La balestra? Facciamo la balestra Nell'alchimia non si può fare più un cazzo Perfetto Fantastico Vabbè La balestra sarà ben potenziata Ottimo Allora Un uccello di pietra era là Ok E guardava di là Quindi probabilmente Deve andare di qua Penso no? Proviamo Eccola l'altro uccello Eh ma io vi farò camminare parecchio adesso ragazze Io non ho capito perché ho dovuto stoppare i mulini Oh signora Sì andiamo a Niente Oh che pale mi sta facendo girare il cazzo il gioco Vuole che a tutti i costi andiamo da quell'uccello di merda Dov'era? Dai su Andiamo da quell'uccello Così sono contenti Dov'era? Lì Sto fissando quelle colonne Ok Andiamo alle colonne Andiamo alle colonne Voglio visitare un po' la città Ma a quanto pare Cosa mi chiede? Scopri cosa nascondono le rovine Allora Io direi Direi che abbiamo scoperto queste bellissime rovine Direi che possiamo fermare qui la puntata per oggi Io vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale Attivare la campanella E cliccare il mi piace Se vi è piaciuto il mio video di stasera o di oggi Pomeriggio o di stamattina Dipende quando lo guardate Vi ricordo che sono anche su Instagram Seguitemi anche lì Vi lascio il link in descrizione per i giochi scontati Se avete voglia di comprare qualcosina E niente Vi auguro un buon proseguimento E alla prossima Ciao a tutti da Ranagamer83 Ciao a tutti